Questo campionato, questa Serie C unica, campionato nuovo, come lo vedi, come tu lo aspetti? Un campionato complicato, ho detto già, una formula strana, con due gironi, però con squadre importanti come la Menzana Siena, come Prato, come Livorno, sono squadre importanti, Carrara, sono squadre che hanno il Montevarchi stessa, perché il Montevarchi secondo me è una delle squadre più attrezzate per ambire ai primi quattro posti del campionato. Quindi io accetto questa sfida, forse la sfida da pazzi, però sinceramente a me piace, perché i ragazzi stanno rispondendo in maniera incredibile e credo che chi è venuto al palazzetto domenica si sia divertito vedendo due squadre, ci mette anche Montevarchi che hanno pescato e stanno continuando a lavorare sui giovani e soprattutto gente del Vivario e quindi questa è la strada, io non vedo altre strade, poi magari puoi prendere un giocatore importante anche per valorizzare i tuori, però sinceramente San Giovanni deve tornare a fare giocatori importanti e di giocatori importanti in questa squadra ce ne ho tanti che possono diventarlo, perché se lavorano sinceramente non hanno niente da invidiare a giocatori che per ora sono più considerati e considerati anche più forti, quindi io confido molto in questo grande miglioramento dei miei giovani e dei miei ragazzi.